La problematica della microcriminalità e dei furti numerosi nelle frazioni rompe in Consiglio Comunale. È stato modificato il regolamento di Polizia Municipale, stendendo le cosiddette zone di ideas porbano. Oltre alle zone sensibili all'interno delle mura urbiche, nei pressi di scuole, fermate, parchi, ospedale e quant'altro, si arriva anche nelle frazioni. Andiamo ad ampliare le zone all'interno delle quali può essere combinato appunto questo provvedimento. Abbiamo aperto quindi a tutte quante le piazze delle frazioni, ci tengo a sottolinearlo perché le frazioni sono parte integrante del nostro territorio comunale, e a tutta l'area della città, compresa all'interno delle mura urbiche. Rimangono ovviamente gli ospedali, le cliniche, i piazzali, quindi antistanti le scuole. Un provvedimento insomma che tende a rafforzare l'ampliamento appunto di queste aree. Una misura che va al passo con i furti nelle frazioni, soprattutto a Roio e con l'allargamento del sistema di videosorveglianza, anche nelle frazioni, come stabilito dal Comune con il maxiprogetto delle telecamere che si sta ancora realizzando. Se per la maggioranza il provvedimento è ottimo e incrementa la sicurezza, per le minoranze è inutile uno strumento qualunquista. Il nuovo DASPO urbano, unitamente all'estensione dell'orario di lavoro dei vigili urbani, anche alla sera quindi fino a mezzanotte, insieme con il sistema di videosorveglianza che andrà ad essere completato nei prossimi mesi, secondo me contribuirà in maniera importante alla sicurezza di tutti quanti i cittadini, soprattutto delle frazioni. Fermo restando che alle opposizioni resta questo da dire, perché noi stiamo lavorando, lo stiamo facendo, ci stiamo mettendo la faccia tutti quanti per cercare appunto di trovare delle soluzioni.